Bentornati sul canale, bentornati. Giorno dopo l'ultima di campionato per l'Inter che ha vinto 1-0 a Torino e oggi, domenica, si concluderà la stagione, stagione agonistica 22-23 per 19 squadre italiane su 20. Se vogliamo allargare il discorso nei grandi tornei europei si concluderà la stagione per tutte quante, ad eccezione chiaramente senza topontare i play-off eccetera eccetera ad eccezione di due squadre, Inter e Manchester City che saranno impegnate sabato prossimo nell'attesissima finale di Champions League se per il City è una logica conseguenza di un percorso possiamo dire decennale, sempre andando increscendo per investimenti, mercato e quant'altro per l'Inter è una lieta sorpresa frutto totalmente, mi è da dire, del lavoro soprattutto di campo di Inzaghi, del suo staff, dei giocatori che hanno meritato che hanno meritato veramente di chiudere la stagione con questo sogno, lo stiamo chiamando sogno perché poi è tale, un po' come l'Italia a Euro 2020 un po' come la Grecia nel 2004 un po' come la Danimarca nel 92 un po' come il Chelsea, il vogliamo quando affrontò il Bayern di Mo 2012 se non vado errato ed è un bene che sia così al di là del fatto dell'Inter o non Inter è un bene che venga anche premiato non solo l'esborso economico ma anche lì comunque ci sono dei meriti perché non è che tutti quelli che hanno i soldi poi li spendono bene peraltro come ho sempre detto si può un gran parlare della rosa lunga e profonda e ricchissima del Manchester City ovvero in parte perché se voi andate a guardare la rosa del Manchester City è piena zeppa di campioni è piena zeppa di ingaggi stellari di cartellini pagati tantissimo ad esempio da Kanji in proporzione, qualità, prezzo e ricordiamo che andava in scadenza col Borussia Dortmund tutto vero ma non sono 22 25 super mega campioni titolari ci sono tanti giovani ci sono tanti giovani ci sono tante alternative che magari in altri contesti nessuno andrebbe lì a giudicare come super top a che lo stesso a Kanji ma ce ne possiamo mettere ce ne possiamo mettere diversi gente che poi evidentemente si è rilanciata Grealish Grealish è pagato tantissimo fino a due mesi fa era indicato come è un po' come il cucurella del Manchester City giocava a Foden eccetera eccetera quindi merito anche lì al lavoro non bastano i soldi è facile dire beh sì è il City è il City no perché il Paris Saint Germain per dirne una non è che ha questo percorso così lineare peraltro alla fine è vero che ieri non contava nulla ma perdendo in casa ha vinto la Ligue 1 con un punto sull'Ans l'Ans ha costruito veramente con due spicci e con tante con tante eccezioni detto questo c'è ci sono diversi discorsi da affrontare li affronteremo chiaramente nella settimana nella settimana entrante e e ci sono cominciano sono partiti discorsi di calciomercato calciomercato riguardanti l'Inter riguardanti la prossima stagione c'è quest'ultima appendice veramente che va vissuta come è giusto che sia cioè godendosela e nel frattempo però l'Inter si sta preparando si sta preparando al prossimo al prossimo campionato e come vi dicevo anche ieri anche la nostra redazione sono giunte conferme sull'interessamento dell'Inter per Nacio poi io mi tengo i miei dubbi mi tengo i miei dubbi proprio considerando a livello economico 4 milioni di ingaggio che nel caso beneficeranno anche del decreto crescita quindi saranno molti di me però 4 milioni di ingagionetti una data di nascita non più verdissima 33 anni e va per i 34 se non ricordo male di gennaio dall'altra sul piatto della bilancia ha messo non solo l'esperienza ma anche la qualità anche la tipologia di giocatore Nacio è un difensore di fisico ma anche di tecnica non è basso è 1.80 non è neanche altissimo almeno per gli standard dei difensori odierni e devo dire che forse il ruolo di braccetto è quello che si adatta meglio il Real Madrid spesso ha giocato anche terzino sinistro una ripresa a 4 quindi è un giocatore polivalente che sicuramente può tornare molto utile il discorso va inquadrato nell'ottica dei rinnovi o degli adi ad esempio De Frey ad esempio Acerbi che va comunque comperato dalla Lazio ad esempio D'Ambrosio che è quello in teoria che dovrebbe far posto a Nacio se entra Nacio penso che esca D'Ambrosio anche a livello di ruolo non sarà e questo posso dirvelo chiaramente non sarà o meglio non dovrebbe essere il sostituto di Skriniar poi se Darmian è questo e si vuole puntare ancora su Darmian e si vuole avere come alternativa a Nacio allora è chiaro che con Dumfries che viene dato in uscita e con Bellanova che va riscattato e lì allora si sposterebbero il minimo si sposterebbe sull'esterno di destra io mi auguro che Skinner venga sostituito con un con un titolare di livello perché Darmian è un eterno e secondo me difficilmente potrà ripercorrere questa stagione qui con veramente picchi altissimi e down forse mezzo mezzo d'anno in una partita in una stagione poi anche qui mai mettere limite alla provvidenza ci mancherebbe altro l'altro nome l'altro nome di giornata l'altro nome di giornata è quello di Milinkovic Savic un nome che di tanto in tanto torna un nome che che all'Inter piace da da tempo chiaramente poi badate bene all'Inter c'è sempre Simone Inzachi perché a questo punto penso che la sua conferma sarà scontata e se c'è un allenatore che ha fatto le fortune di Milinkovic Savic è Simone Inzachi la domanda al di là del prezzo si parla di 30-35 milioni la grande concorrenza si parla di Juve di Milan si parla di beh in effetti all'Iventus un centrocampista ma anche si parla di di estero come Newcastle eh tanti nomi tanti nomi se ne si fanno tanti nomi la mia domanda è ma con 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 questo centrocampo qui quindi con Mkhitaryan con Varella con con Cialanolu con Brozovic veramente servirebbe Milinkovic Savic? Io la mia risposta ce l'ho e secondo me eh sì ve la ve la ve la ve la ve la dico proprio in maniera in maniera netta secondo me un giocatore con quelle caratteristiche che sa abbinare fisicità tecnica bravo nel possesso palla ma anche nelle letture tattiche quando si tratta di compattarsi è un diventa un fattore diventa un fattore anche proprio per gli schemi di Inzaghi o Milinkovic Savic sinceramente non lo riesco a vedere quel giocatore da 100 milioni che ti cambia la stagione che ti cambia la squadra che ti rivolta personalmente non lo vedo però va secondo me sempre visto anche il feeling con l'allenatore di turno e se Milinkovic Savic trova l'empatia come è successo con gli anni con Inzaghi diventa veramente un fattore quindi sì anche perché anche qui come per per Darmian Mkhitaryan non è eterno e c'è da capire il discorso relativo a Brozovic che in caso di uscita di Brozovic si parlava tanto di che sì si parlava tanto di che sì stai a vedere che allora magari la sorpresa non diventi Milinkovic Savic con Aslani rilanciato maggiormente magari senza appunto Brozovic dopo un anno di di apprendistato c'è la Nolu confermatissima il ruolo di regista ma è chiaro che stiamo facendo dei discorsi molto in là con la fantasia perché secondo me come lo e lo dicevo in tempi non sospetti quando c'erano dei problemi fisici dei problemi di ritorno a certi livelli secondo me cancellare quello che ha fatto e quello che può fare ancora Brozovic io aspetterei un altro io aspetterei un altro aspetterei con tutta la mia stima per Milinkovic Savic con tutto che secondo me come vi ho spiegato all'Inter manca un giocatore di quel tipo a centrocampo però va considerato anche quello che tu hai quello che puoi spendere in generale secondo me il centrocampo dell'Inter è il reparto che ha funzionato meglio e che permette di funzionare a quella maniera anche l'attacco e anche la difesa perché quando gira il centrocampo l'Inter prende pochissimi gol ma veramente pochissimi e ne segna tantissimi non è un caso non è un caso e non è un caso che vengano riforniti gli attaccanti in determinate condizioni poi vabbè quest'anno in attacco ci sono stati dei problemi anche contingenti infortuni eccetera 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 e lukaku quindi la mia domanda è questa sacrifichereste Brozovic per Milinkovic Savic un conto è dire sì serve Milinkovic Savic c'è uno così ok ma se serve sacrificare Brozovic non lo so è un bel dilemma io vanno bene le modi vanno bene le euforie però dimenticare quello che ha fatto Brozovic è quello che può ancora fare al di là della partita di ieri col Torino in cui è stato decisivo come l'ha andata però Brozovic che sta bene io ci rinuncio difficilmente ma non lo dico oggi lo dicevo anche quando restava fuori quando non era tornato in condizione quando era infortunato quando si parlava di Brozovic che si fa curare dal tizio del Milan polemiche ormai separati in casa e non ce ne siamo dimenticati di tutto quello che si è detto in questi mesi di Brozovic o di quello che si era detto di Lukaku perché poi si sta vedendo insomma proprio uno spogliatoio spaccato Lukaku vuole andare via Brozovic separato in casa tutto così fatemi sapere nei commenti mettete like ogni tanto ve lo ricordo mettete like che è importante per far girare il video sulla piattaforma e iscrivetevi se ancora non siete iscritti e se ritenete magari utili questi miei contenuti un saluto